Questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare tutti, in modo particolare i giovani, verso il problema della sofferenza, della malattia e comunicare gioia e speranza, ma questa speranza che dobbiamo prima possederla noi per poterla donare agli altri e i parenti che assistono il malato hanno tanto bisogno di dialogo, di relazione, di speranza, di gioia. Mentre noi oggi viviamo in un mondo di individualismo, dobbiamo contrastare la cultura dello scarto per poter vivere veramente una vita di fratellanza, di comunione fraterna. E quindi è molto importante anche questa giornata perché è un momento di ringraziamento per tutti coloro che assistono i sofferenti, gli ammalati, per i medici che operano in ospedale, per gli operatori sanitari, perché loro veramente sono le persone che aiutano, sono l'occhio visibile di Dio.